Ben trovati l'edicola di Schietti G24 per vedere i fatti principali di questo venerdì che si è concluso, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Il mattino di Puglia e Basilicata, Bubone e Bari, tra Ponte e Schlein volano gli stracci, le macerie politiche del terremoto giudiziario in Puglia. Anche qui un ritorno alle notizie dal Medio Oriente, l'ONU che dice basta armi a Israele sotto accusa anche Meloni la risoluzione del Consiglio per i diritti umani.